Quattro borse di studio per studenti universitari e due per quelli delle scuole superiori in memoria di Silvio Spaventa e quanto promosso dall'Officina del Deputato Luciano D'Alfonso e dalla Fondazione Europa Prossima con il patrocinio della Fondazione Silvio Spaventa, dei Comuni di Chieti a Tessa e Bomba e i Dipartimenti di Scienze Filosofiche dell'Università di Chieti Pescara e di Scienze Politiche e Giurisprudenza dell'Università di Teramo. Il bando verrà pubblicato nei prossimi giorni mentre i premi saranno conferiti nel corso di una cerimonia che si terrà a Chieti nel Teatro Marruccino nella prima settimana di maggio. Sull'iniziativa sentiamo il presidente della Fondazione Silvio Spaventa, Raffaele Bonanni. Spaventa era un uomo di questa terra, ha studiato qui, poi ha continuato i suoi studi a Napoli una persona che rappresenta bene l'Abruzzo e anche quel tempo, un tempo di costruzione dell'Italia e di costruzione della modernità perché si batte contro l'assolutismo, partecipò alla costruzione dell'Italia ma già ai primi agiti ci fu chi voleva deviare e lui si contrappose sempre in questo modo, tant'è vero che le sue opere sono state molteplici e ha dimostrato appunto che un politico, e questo è un monito anche per oggi, può fare politica e riesce a fare politica per la propria comunità in modo proficuo alla condizione che abbia un orizzonte, una filosofia di rifurimento. Tema del premio è Silvio Spaventa, maestro di unità nazionale. Per parteciparvi bisogna elaborare un videomessaggio della durata massima di 5 minuti che affronti il tema proposto. Ancora buon anni. La sapienza delle persone può permettere al digitale di essere uno strumento di grande utilità perché la ruota della storia possa camminare ancora inesorabile verso il futuro.